Io ti chiederei, un difetto che ha mostrato in questo periodo Giuseppe Conte? A me sembra che finora abbia gestito bene, soprattutto nel comunicare decisioni molto pesanti con gradualità. Il difetto che riguarda lui e tutto il governo non un eccesso di comunicazione come qualcuno gli imputa, ma un difetto di comunicazione. Secondo me avremo bisogno di più figure istituzionali, oltre alla sua che spiegano anche nel dettaglio non soltanto le misure che vengono prese, ma anche poi le modalità pratiche con le quali si può accedere. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.